Il reato sostanzialmente è l'articolo 648 del Codice Penale che punisce la ricettazione di beni di provenienza illecita. Noi anche alcuni reati in materia specifica proprio a tutela di beni di particolare valore culturale. Il soggetto per quelle che sono le nostre risultanze si è giustificato che è un soggetto che lavorava, ha prestato l'attività lavorativa all'interno dell'Ignazianum da dove i beni sono stati poi asportati. Ha giustificato questa sua disponibilità come una disponibilità acquisita a seguito di donazioni da parte di soggetti che lui accudiva all'interno dell'Istituto e che però poi sono deciduti successivamente, quindi nessun tipo di riscontro è stato possibile acquisire sul punto. L'arma sistematicamente effettua dei controlli sui siti online proprio per individuare l'eventuale presenza di beni di provenienza illecita e navigando sul sito ebay nella sezione libri di particolare valore storico-culturale ha individuato queste foto di libri messi in vendita che presentavano il bollo dell'Istituto Ignazianum. Sono ovviamente libri di cui è vietata la vendita senza autorizzazione, da lì sono partite le indagini, è stato individuato l'IP del soggetto che aveva postato queste foto e quindi messo in vendita i libri e quindi è stata fatta la perquisizione all'esito della quale sono stati rinvenuti alcuni di questi beni, non tutti perché poi alcuni di questi libri erano stati già venduti e quindi acquisiti da parte di altri soggetti. Da questo punto di vista sono in corso indagini finalizzate a fare in modo che quei libri rientrino in possesso dei legittimi proprietari.